FRAGILI ANIME MERAVIGLIOSE L'esistenza è una questione immortale, è una poesia. Non andrebbe tradotta né interpretata, solo condivisa. In versi, con versi, per versi, siamo tragicommedie incompiute, foglie in balia della corrente nel piazzale scosso dal vento. A tutti spetta un ruolo preciso privo di significato. Eppure non possiamo rinunciare alla possibilità di scrivere la pagina successiva. Non dobbiamo lasciare in bianco il nostro foglio. In versi, con versi, per versi, una sola destinazione, molte direzioni. Gli ultimi non possono che essere santi in eternità. Alcuni, rari, sono beati. Tutti gli altri sono benedetti.